La macchina si ripara e mi auguro che anche quella testa che ha fatto questo spreccio sulla mia automobile, credo che forse mi servirà anche a lui, mi auguro, a capire che è una registratina che sia bene che sta a dire. Hanno preso di mira l'auto della Zindaco posteggiata di fronte a casa, una amara scoperta fatta solamente la mattina successiva, quando il primo cittadino di Chiusi della Verna ha trovato una fiancata interamente rigata. Ci sono rimasto abbastanza sorpreso, ma sono sempre cose spiacevoli, poi tra l'altro sono anche cose che poi hanno alcun costo per rimetterla a posto. Un gesto che potrebbe essere riconducibile ad un'azione vandalica oppure ad un avvertimento proprio nei confronti del sindaco. Quando siamo esposti si può dare anche noi a livello, magari io dico così, non so, magari gelosia e invidia, perché magari si riesce a fare delle cose che forse pensa o non pensa che si potevano fare o magari non lo so, ecco questo, però non credo che sia una cosa che sia legata ben precisa alla mia persona nel senso per altre cose. Adesso il primo cittadino presenterà denuncia. Fare il sindaco non vuol dire fare del male a nessuno, però cercare di educare la gente, e fargli capire che bisogna cercare di tenere un comportamento più rispettoso verso tutti.